L'ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, in tour in Puglia per approfondire i temi legati all'autonomia differenziata, al superbonus e alla legalità. Prima tappa a Taranto, ospitata nella Camera di Commercio. Il progetto del ministro Calderoli non convince l'esponente del Movimento 5 Stelle, che invita a una maggiore celerità nell'individuazione dei livelli essenziali di prestazione. I livelli essenziali di prestazione è come dire che noi dobbiamo avere una prestazione che corrisponde al minimo sindacale. Quindi non va bene, noi dobbiamo avere un livello al massimo che sia uniforme di prestazione su tutto il territorio nazionale. Perché poi alla fine, quando verranno e se verranno calcolati i livelli essenziali di prestazione, scopriremo l'acqua calda. Ovvero che al sud mancano pro capite tanti euro per cittadini, quindi dell'istruzione e così via. E quei soldi, visto che il disegno di legge è invarianza di spesa, chi li metterà? Li metterà lo Stato, corrispondono a 100 miliardi di euro, non li metteranno. Quindi che cosa succederà? Si riferirà di nuovo alla spesa storica e la spesa storica quindi svantaggerà tutte le regioni più deboli. Noi dobbiamo far sì che la Repubblica sia unita, che l'Italia sia un sistema tra nord e sud e che come paese in modo strutturale possa guardare anche i mercati globali. Così ci indeboliamo tutti.